...un saluto per tutti voi, è tutto il giro di voi, non è la spiega nel cemento, la leggera svolgiva, un saluto agli amici di ricordo, Pisa, Genova, Genova sempre presente, un saluto per l'unità, per l'unità che con noi, la Svezia, la Rara, Sestri Levante, e questa sera con noi, che il Brasile è con noi questa sera, una coppia presa l'aereo per Pecciano Imperiare. Avete avvicinato gli scudi? Avete affilato le spade? Questa sera si combatte per l'inforzo e questa sera si combatte per l'inforzo. Si fa un viaggio nel tempo! Preparatevi! Tanto tempo fa, non ricordo l'inforzo, gli studiosi, hanno scoperto, l'impatto totale di il governo che un'azione da questa parte del mondo poteva scatenare una catastrofe in un'altra parte del mondo. Però hanno scoperto anche che non ci sono solamente catastrofe, aopiutti per l'inforzo e a scoperto che non ci sono statrofe, che non ci sono statrofe, L'ultimale della terra scompari soltanto una volta al mese e non capivano perché. Allora un giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto, tipo, perché lo sai, come mai c'è questo parametro spiegabile? E gli ho detto che lo spiego io, perché una volta al mese c'è leggemente reale, perché imperiale è amore, perché imperiale è provenienza, perché imperiale è musica. Questa sera entrerete con noi nella leggenda, questa sera la famiglia imperiale entrerà nella leggenda con noi, perché questa sera in console c'è alla luce e in leggenda. La voce è di Chico F e la musica è del piccolo grande uomo. Andrea Io ti reso, io ti reso, i periani io ti reso. E' bella, 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 bella! La musica degli italiani, a dire, bella, bella! E' bella, 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 bella! Ma che ti sei fa? Viva! La musica degli italiani, diciamo di via, bella, 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 bella! Grazie a tutti.